E' possibile presso l'anagrafe del Comune di Capodorlando dichiarare la propria volontà per donare gli organi. Si arriva a questa possibilità a seguito di una mozione che ha poi seguito il giusto iter presentata dai gruppi di minoranza, l'ho presentata io come primo firmatario, il collega Trusso, San Filippo e Gemellaro nella passata legislatura, che consente per l'appunto di aggiungere in sede di rinnovo della carta d'identità la dichiarazione di volontà. Questo consente di essere iscritto nei registri nazionali del Centro Nazionale dei Trapianti e quando si dovesse verificare il decesso verranno attuate tutte le procedure necessarie naturalmente a morte avvenuta per il prelievo di organi e tessuti. Naturalmente questa qua è una forma di aiuto a quella che è la salute di altre persone, è una forma di sostegno di morale altissima a quello che è il diritto alla vita, è una dichiarazione volontaria e non un obbligo. Al momento del rinnovo della carta d'identità si può anche dichiarare di non volerlo fare, e qualora questa fosse la scelta nessuno mai potrebbe intervenire. Naturalmente si può anche non dichiarare nulla, in quel caso la legge prevede che sia la famiglia a scegliere. Il fatto di poter scegliere prima del decesso è un fatto nuovo, previsto da due leggi, una del 2010 e una del 2013, che naturalmente consente di dare questo grandissimo aiuto in piena autonomia e nel momento di massima coscienza. Le amministrazioni devono essere e farsi promotrici di quelle che sono le possibilità, lasciando naturalmente a ogni singolo cittadino la possibilità di scegliere in autonomia. Presso l'ufficio anagrafe è adeguatamente formato e che ha dato un grandissimo contributo perché questa possibilità sia consentita presso il nostro comune, presso il comune di Capodorlando, è possibile avere tutte le informazioni necessarie per la registrazione.